Su uno ha schiorto e massato al portiere Kosacic, qua ancora l'allana, ancora Kosacic che risponde al ventiduesimo del primo tempo Poi il bellissimo lancio di Dier per Starridge che non controlla bene, ma il lancio vale la pena, valeva la pena già di vedere soltanto il lancio Nel secondo tempo l'unica occasione per la Slovacchia, capita per questo pasticcio tra Smalling e Hart, non ne approfittano di poco gli Slovacchi Ogni tanto qualcosa Hart concede all'avversario, non concede invece niente Kosacic che subito dopo risponde benissimo a Klein Sulla destra l'Inghilterra sfonda moltissimo il tentativo di Ali Sarbas, questa volta ha scorto il decisivo sulla riga E poi l'ultima occasione è per Starridge, lo 0-0 non si...